Cari amanti dell'arte ben ritrovati, come promesso nell'ultimo video ritorniamo dal mondo delle tenebre e ci spostiamo però in luoghi poco più vicini a quel mondo. Rimaniamo ai confini della realtà. Oggi parliamo di Edward Hopper. Il suo è stato un linguaggio di grande attualità e lo rimane tutt'oggi. Hopper descrive con estrema fedeltà scenari americani, spesso di carattere metafisico e ricchi di significato esistenziale. Luoghi deserti e che rimandano alla cinematografia americana del periodo, ma le sue sono opere statiche. Una personalità poco incline al cambiamento dello stile pittorico che coinvolge il mondo dell'arte. Vive tutta la sua vita a New York. Hopper non sembra attratto dalla novità architettonica dei grattacieli. La sua America non presenta nessuna caratteristica eroica e nemmeno moderna. Pochissimi sono i personaggi che albergano nelle sue opere e anch'essi dal carattere particolarmente statico. Tracce misteriose sono presenti nei suoi quadri che si accostano a quelli di De Chirico specialmente nel ritrarre zone d'ombra in contrasto con altre illuminate da una luce abbagliante. Una pittura più mentale che manuale. Diamo uno sguardo all'opera House by the Railroad del 1925 ad esempio. Ecco la casa di Hopper è quella di Algemon Blackwood che narra in un passo così. Certe case come certe persone hanno chissà come il potere di manifestare immediatamente la loro essenza maligna. Se si tratta di persone non è detto che a tradirle sia questo quel particolare del loro aspetto esteriore. Può darsi anzi che ostentino un volto aperto e un sorriso ingenuo. Un paesaggio apparentemente sereno dunque. La casa ha l'apparenza tranquilla. Ma cosa c'è dietro quella casa? E' abitata? E' da chi? Quella casa ha una sua storia ma è difficile percepire informazioni da questo dipinto. E' la casa forse vittoriana che Hitchcock usa come modello per il film Psycho? Sembra essere proprio quella che 35 anni dopo il regista filmerà con la sua macchina da presa. Nelle sue opere il tempo è sospeso in un'atmosfera di realismo metafisico. Passiamo adesso a un'opera noir. I Nottambuli. Qualcosa accadrà questa notte. La città fuori è deserta. A illuminare la strada e il bar dove dentro ci sono un barista, due uomini e una donna. Ma l'uomo a sinistra più distaccato dalla coppia forse non ha nulla a che fare con loro tranne che essere un Nottambulo. Nessuno sembra parlare. Regna il silenzio. L'umanità sembra aver abbandonato questi personaggi. Allora forse qualcosa non è accaduto. Potrebbe trattarsi di una struggente attesa. Il tema che pur sembra facile da comprendere in effetti non lo è. Perché nei Nottambuli qualcosa non va. Hanno un dolore dentro. Sono pieni di pensieri che impediscono di far riposare la mente. Era il 1942. Forse questi personaggi stavano aspettando ansiosamente, affogando i loro pensieri in caffè o alcol, l'esito della guerra. Che cosa ne sarà del mondo? Nel frattempo il silenzio regna in una città lontana dai rumori assordanti delle bombe. Ma il timore della fine del mondo resta uguale per tutti gli uomini. Hopper non è sicuramente un pittore surrealista ma le sue opere, sebbene fossero realistiche, sono cariche di mistero. La contemplazione dei suoi quadri implica continue domande. Chi sono le persone che vivono nelle sue opere? Chi abita o abitava in quella casa vicino ai binari che abbiamo visto poc'anzi? Il deserto attorno ai personaggi? Quel silenzio è surreale? E perché quel silenzio metafisico? L'umanità ha abbandonato la terra. Oppure Hopper rappresenta con la pittura la metropoli della folla solitaria, più o meno come farà qualche anno dopo George Seagal con le sue sculture. L'artista annulla il rumore assordante e la folla nelle sue opere, nella sua metropoli, perché nella realtà della metropoli noi siamo da soli e come se accanto a noi non ci fosse nessuno. Le sue opere sono poesie silenziose. È un lucido delirio del pittore, così realistico e visionario, che riesce come pochi a catturare nella tela la miseria morale del mondo. Potrebbe essere un rimando alla fine dell'umanità. Cari amici, ci rivediamo al prossimo video. Un caro saluto e buona arte a tutti!